. Uomini e donne, la scelta shock di Mariano Catanzaro Al trono classico di Uomini e donne, durante la puntata andata in onda mercoledì 28 marzo 2018. . Il tronista Mariano Catanzaro ha fatto un piccolo scherzo a tutti gli affezionati telespettatori dello storico dating show di Maria De Filippi. Il simpatico partenopeo ha infatti preso parola dopo le esterne con le sue corteggiatrici Roberta e Valentina, e si è scusato con il pubblico. . La redazione è la padrona di casa per ciò che avrebbe detto di lì a poco, Mariano ha infatti dichiarato. La mia scelta è in questo studio lasciando dunque intendere che una tra le due sue corteggiatrici sarebbe stata scelta di lì a poco. . Invece il troncita raggiungo il pubblico in studio e ha fatto alzare la mamma per un emozionante ballo al centro della pista. . 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 Grazie a tutti.